amici dei profumi amici di fabrizio benvenuti o bentornati su profumizio oggi concludiamo la carrellata di profumi con la nota di uva con tre profumi chiudiamo veramente col botto molto buoni due sono di nicchia uno si trova nella grande distribuzione però purtroppo è un discontinuato adesso poi vi spiegherò tutto quindi ho voluto lasciare insomma questi tre profumi alla fine insomma per non dilungarmi troppo iniziamo subito con il profumo diciamo più low cost che è black cherry merlot di bat and body works io ho questa versione che è lo spray per profumare gli ambienti ho letto però che nel 2019 bat and body works aveva lanciato anche l'acqua per il corpo e quindi probabilmente tutta la linea bagno schiuma crema per il corpo questo profumo è veramente delizioso a parte che ne bastano pochi spruzzi e comunque profumate perfettamente la casa tra l'altro questo profumo l'avevo comprato da bat and body works ad arese e l'aveva preso anche mauro non mi ricordo se era in saldo comunque so che l'avevamo spruzzato e ci era piaciuto moltissimo le note che vengono dichiarate da bat and body works sono lampone vino rosso tra l'altro qua c'è scritto proprio merlot quindi un vino specifico un vino rosso corposo molto importante anche un pochettino dolce però non è un vino di quelli appunto dolci tipo il moscato però senz'altro odorando il merlot si hanno questi sentori di frutti rossi questi sentori comunque dolci io non sono un grande esperto di vino però mi piace molto sentire come vi ho detto diverse volte gli odori dei super alcolici dei vini perché sono delle dei sentori veramente molto interessanti tra l'altro mi ero interessato per fare il corso di sommelier comunque fare il corso di sommelier anche se non sia stemmi comunque si può fare e e allena moltissimo sia il gusto che l'olfatto e poi sono dei corsi che si trovano un pochettino in tutta italia quindi è facilmente fattibile purtroppo i costi sono veramente molto alti e quindi per il momento ho desistito però devo dire che insomma quando mi capita il sentore insomma del vino dei super alcolici anche dei cocktail mi piace moltissimo sentirlo e in questo profumo diciamo le note che spiccano sono senz'altro la ciliegia questa è una bella ciliegia scura rossa quasi una marena una ciliegia però che non è per niente gourmand è veramente una ciliegia adulta molto molto piacevole e poi io ci sento questa nota di vino di vino rosso corposo di vino rosso dolce davvero un profumo molto piacevole io tra l'altro nella mia follia questo non si può spruzzare sulla pelle perché uno spray per ambiente lo dice proprio anche sulla confezione però ho provato a spruzzarlo su dei maglioncini su dei cardigan e devo dire che il risultato è stato veramente molto molto piacevole perché si lascia questa bella scia di ciliegia e vino rosso tutti vi chiedono che profumo state indossando naturalmente non dico che è un profumo per ambienti di con acqua per il corpo di batten body works perché altrimenti mi rinchiudono in psichiatria comunque devo dire molto molto piacevole per la casa è una bomba tra l'altro questa versione penso che sia ancora in vendita però non dispero perché batten body works ogni tanto cambia i pack e comunque rilancia fragranze del passato quindi attendiamo fiduciosi questo costava secondo me meno di 10 euro poi appunto forse allora era addirittura in saldo ed è molto buono se andate da batten body works se fate un ordine online guardate nella sezione spray per ambiente forse c'è anche la candela questo è buono se vi piace il sentore di un vino rosso bello corposo e di ciliegia questo fa per voi e comunque insomma è una fascia di costo abbastanza contenuta passiamo a un altro profumo questo è un profumo di nicchia di coquiette pari è mirabilis questa è la versione che ho io la mini size da 10 ml che costa intorno ai 35 40 euro però spesso si trova anche in offerta la full size invece supera i 100 euro tra l'altro ho visto che sul sito ufficiale addirittura costa 2 20 però su tutti gli altri siti costa 140 comunque vabbè io non sono interessato alla full size anche se è un profumo nelle mie corde che ho voluto comunque comprare in questa versione piccola perché è un profumo che comunque è un gourmand un gourmand un po' atipico che devo dire mi piace qui l'ho spruzzato sulla cartina per sentire un pochettino il dry down qua me lo spruzzo su pelle è un profumo che comunque ho già provato e indossato è un extrait de parfum del 2016 creato dal naso ufficiale di coquiette che è rosa vaia questo è un profumo incentrato su il cioccolato e la frutta le note infatti sono in testa fava di cacao aranas mela verde e bergamotto nel cuore caffè betulla rosa e gelsomino sul fondo cioccolato fondente cacao vaniglia muschio di muschio bianco e ambra grigia è un profumo buono perché sa di cioccolato di un bel cioccolato fondente un pochettino come il dark chocolate di the library of fragrance naturalmente questo ha tante sfaccettature e comunque ha una sua complessità però diciamo che il fondo è quello un fondo di cioccolato fondente molto piacevole che si fonde sulla pelle eppure essendo un extrait de parfum rimane molto skin scent l'apertura è però molto interessante perché questa frutta si sente molto l'ananas l'uva la mila verde il bergamotto invece non lo sento l'hanno descritto come una macedonia servita in una coppa di cioccolato un uovo di pasqua di cioccolato e frutta comunque senz'altro il punto forte di questo profumo è proprio questo mix che è veramente molto ben bilanciato di frutta di frutta che è fresca succosa e di cioccolato fondente davvero un profumo molto piacevole un gourmand che si dolce ma non stucchevole veramente molto bene equilibrato io direi che vi deve piacere la nota di cioccolato fondente e non a tutti piace quindi se amate quella nota potreste azzardare a comprare comunque la versione piccola perché poi comunque tutta questa frutta in apertura un pochettino si stempera e quello che rimane è la vaniglia il la cioccolato poi si ce l'ambra che probabilmente lo fissa un po devo dire che sulla pelle si sente tutto il giorno ma soltanto la prima ora è un profumo diciamo di quelli da scia importante poi diventa assolutamente intimo è un profumo che io ho utilizzato anche d'estate perché un gourmand che secondo me è molto piacevole anche d'estate certo non di giorno non con 40 gradi però questo è un profumo senz'altro da festa quindi da da halloween da immacolata da feste di natale e poi anche da questo periodo perfetto per l'autunno con questo bel sentore di uva che un pochettino si sente non è una nota protagonista però nel mix di frutta io un pochettino l'uva ce la sento infatti quando pensavo ai profumi all'uva ho detto devo parlare anche di mirabilis buono particolare se avete occasione di spruzzarvelo e di annusarlo di farvi fare una piccola fialetta insomma è da provare perché molto particolare però dolce confortevole morbido molto insomma nelle mie corde se più o meno vi piacciono i profumi che piacciono me anche mirabilis sicuramente lo apprezzerete e questo è mirabilis tipo kiette in questa versione da 10 ml chiudiamo col botto con un profumo secondo me è molto buono che io amo tantissimo un profumo però molto particolare io l'ho comprato a scatola chiusa perché mi piaceva l'idea che c'era dietro a questo profumo poi avevo sentito una bellissima descrizione che aveva fatto daria lilla cupcake ciao daria si è citato spesso in questi video a tema uva e approfittando anche di una promozione avevo qualche sconto insomma l'ho preso da profumix quindi l'ho preso online il profumo in questione symposium non mi avvicino troppo perché se no si oscura la telecamera vabbè la scatola è molto semplice è bello che qui sia raffigurato quest'uomo col calice di vino e qui una un'ancella una donna che raccoglie questo vino questo è un extrae de parfum il prezzo diciamo di listino i 150 euro perché gli extrae di calottini sanno questo prezzo quindi un po più elevato degli altri però questo è un profumo che veramente merita molto buono vi consiglierei di sentirlo perché comunque particolare ha delle note particolari e quindi non a tutti potrebbe piacere non è un gourmand quindi un profumo forse un po' lontano dalla mia comfort zone ma mi piace veramente molto prima di iniziare a parlarvi del profumo questa è la scatola e questo è il profumo ve lo faccio vedere vi racconto un po' la storia insomma che c'è dietro a questo profumo che vuole rievocare proprio i simposi dell'antica grecia dell'antica roma questi simposi erano praticamente il finale delle cene e coinvolgevano soltanto gli uomini le donne non venivano coinvolte e praticamente iniziando con un brindisi iniziando con una preghiera dioniso abacco il dio del vino questi uomini iniziavano a parlare di vari argomenti a scherzare anche in maniera un pochettino pesante un pochettino greve e insomma tiravano così tiravano tardi era una festa che comunque era appunto arricchita da abbondanza di vino quindi erano tutti un pochettino alticci e il bello insomma era proprio il discutere di tanti argomenti infatti poi platone ha fatto anche un libro che si chiama symposium perché era proprio un momento fondamentale insomma per la cultura greca e romana era proprio un momento dedicato all'allegria ma anche alla riflessione e quindi insomma era un momento anche culturalmente importante infatti ancora oggi comunque quando pensiamo al simposio pensiamo a una riunione un congresso molto specialistico in cui si accede soltanto per invito però le radici sono proprio quelle dell'antica grecia dell'antica roma simposio tra l'altro significa proprio bere insieme e questo profumo rievoca proprio un banchetto di quelli che almeno io mi immagino facessero nell'antica grecia nell'antica roma quelli che si vedono magari in alcuni film in costume le note di questo profumo sono ambra lavanda fava tonca note boschive muschio labdano paciuli vaniglia ambra grigia vino rosso zafferano e iris però sono tutte così piacevolmente mescolate che secondo me non emerge una in particolare si sente senz'altro che è un profumo ambrato io l'avevo già spruzzato me lo rispruzzo però è un profumo che ha anche una bella ricchezza si sente questo bel paciuli molto morbido l'ambra l'ambra bella resinosa dolce anche l'ambra grigia che ha questo sentore leggermente salmastro e che si fonde perfettamente con la pelle poi c'è questo sentore di vino un vino molto dolce quasi un succo d'uva e poi ecco una nota che spicca e che lega un po il tutto è questo bellissimo zafferano lo zafferano una nota che io spesso non amo molto perché è pungente a volte metallica insomma non sempre mi piace invece qui è davvero morbido racchiude perfettamente questa fragranza che appunto anche l'abdano quindi questo aspetto resinoso è un profumo che definirei ambrato non è assolutamente un profumo gourmand ed è proprio una miscela fatta in maniera molto molto ricercata è un profumo raffinato che vi fa comunque distinguere è un profumo anche originale non ho mai sentito insomma dei profumi del genere devo dire insomma che questa linea di x3 di calottinis mi intriga particolarmente peccato per i prezzi perché comunque i profumi di eau de parfum comunque costano 45 euro quindi sono un pochettino più accessibili gli x3 sono un pochettino meno accessibili per il prezzo bisognerebbe insomma avere modo di sentirli bene io comunque ne ho sentiti diversi e mi sono piaciuti però questo symposium è proprio sul podio profumo molto originale molto ricercato che comunque vi fa fare una bella figura non è un profumo comunque sfacciato che annuncia il vostro arrivo però è un lasciate veramente una buona scia una bella sciambrata dolce ma non stucchevole e appunto emerge molto questo bel zafferano che comunque insomma gli dà una certa frizzantezza e poi un profumo anche che è molto sensuale perché poi quando rimane sulla pelle è un profumo che a me evoca proprio sensualità infatti insomma lo immagino su questi corpi nudi degli antichi romani che magari avevano solo il peplo mi dà proprio insomma anche questa idea di corpo nudo in una festa quasi orgiastica oserei dire veramente buono io l'ho messo anche di giorno però questo è un profumo molto ricercato da sera è un profumo da grande evento veramente molto molto buono se avete poi la possibilità di sentirvelo o di farvi fare un decanto o una fialetta ve lo straconsiglio non vi consiglio come ho fatto io di fare blind buy perché comunque è un sentore particolare scusate se è abbassata la voce ho parlato tanto con teodoro scalottinis e symposium concludo la vendemmia di profumizio vi aspetto per i prossimi video vi ringrazio per i like per i commenti per le iscrizioni e vedo poi che mi seguite anche sugli altri social instagram vinted tiktok facebook il gruppo profumolandia grazie 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 un abbraccio un bacio ciao ciao con la manina ciao